Una profonda depressione sui Balcani continua a mantenere attivo un flusso di correnti fresche e instabili, in particolare sul versante adriatico della nostra penisola, lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Venerdì 16 maggio in Toscana cielo parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte e stratificate. Ampie schiarite saranno possibili in mattinata, mentre dal pomeriggio sono previsti addensamenti più consistenti e non si escludono isolate e brevi piogge. Venti deboli, mari tra poco mossi e mossi, temperature in aumento, più marcato nei valori minimi. Tempo variabile da sereno a nuvoloso su tutta la provincia di Lucca. Nella piana temperatura minima 10, massima 23 gradi. In Versilia minima 12, massima 20 gradi. In Garfagnana minima 10, massima 21 gradi.